Sono molto emozionata, sono molto felice perché ringrazio Ciccio Urso e la mia editrice Urso per quello che quotidianamente fa ed è importante, soprattutto che i ragazzi lo capiscano, perché molto spesso non facciamo altro che utilizzare la nostra professione come un travaso sterile, passivo, di nozioni noiose e insomma ripetitive, invece è molto importante che i ragazzi capiscano lo spessore della cultura a tutto tondo ed è questo che fa la libreria editrice Urso, per cui io vi ringrazio immensamente, immensamente dell'emozione che ci avete dato, soprattutto tramite Facebook, era meraviglioso ogni giorno cercare le copertine, trovare una nuova e leggere le informazioni su ogni poeta e leggere la relativa poesia, è stato bellissimo, quindi è stato un cammino intrapreso insieme che poi trova il suo coronamento in questa serata, ecco perché mi dico emozionata, non è un modo di dire, ma veramente sento profondamente questo e soprattutto nei confronti di questa casa editrice perché ripeto non c'è la stessa serietà e la medesima produzione di valori e di cultura a loro, sono costretta a dirlo ma è così. Ecco perché vorrei leggere una piccola dedica, una piccola dedica personale da parte mia alla libreria editrice Urso, proprio... Ho trovato la sorpresa, ho trovato la sorpresa, a proposta se si leggono i libri, da un certo punto... Mi sono trovato quindi da un certo punto a leggere poesia, dopo poesia a leggere questo testo e mi sono trovato, oh, mi sono detto, ma c'è una poesia dedicata a una libreria editrice, ma come questo di lei non mi aveva detto nulla, mi ho fatto un messaggino subito dopo anche perché non ci sono arrivato subito, man mano che si procedeva nel lavoro, gli autori sanno che io entravo in contatto con ciascuno di loro al tempo opportuno, quindi perché il lavoro è stato tanto diversificato e quando siamo arrivati abbiamo messo questa poesia che ci leggerà, grazie Maria Teresa. Procedi indomita nell'aspro compito di coltivare il sapere, dar voce a viva e variegata cultura o pulbilata, da ignoranza, indifferenza, non curanza, inoculante da chi brama comoda, inconsapevolezza. Indomita sei, santuario dello scivile umano, vanguardo di strenghi difensori della lucida e consapevole intelligenza. Perpetua sempre la tua opera, lume, sì e cibo per gli affamati di conoscenza, senza resa alcuna.